Vediamo come si programma il SimpliAst. Tengo premuto program per qualche secondo e mi chiede la posizione data dal prefisso telefonico. Con le frecce vado a scorrere, a scegliere, in questo caso Milano 02, program per confermare. Correzione tramonto, ora, minuti. Decido che voglio posticipare di 10 minuti. Posso anticipare e posticipare fino a 120 minuti. Program per confermare. Correzione alba, in questo caso voglio anticipare di 10 minuti. Tasto sinistro, program. Anno, conferma 2020, program. Mese e giorno, conferma con program. Ora, minuti, conferma sempre con program. Ora legale attiva, conferma con program. SimpliAst, programmato. Sospensioni notturne. Premo program una sola volta e parte dal primo cavaliere. Tasto destro on, tasto sinistro off. Tasto destro, program per confermare. Procedo cavaliere per cavaliere. Ogni cavaliere, 30 minuti. Voglio sospendere alle 20. Tasto sinistro, program per confermare. Voglio riaccendere alle 22. Tasto destro, program per confermare. Con questo modello potete fare più sospensioni notturne. Voglio rispegnere a mezzanotte. Tasto sinistro, program. Fino alle 2. Dopodiché, sempre acceso fino alla fine. Tengo premuto program. Vi ricordo, disponibile il modello microass su un modulo. Stesse caratteristiche e stesse funzioni. Stesse caratteristiche e stesse funzioni.